Ciao a tutti, io sono Eugenio e sono un doutor clan. Faccio parte di un gruppo di volontari che applicano la clown terapia. Ma clown terapia? Cosa sarà mai? La clown terapia o terapia del sorriso è l'applicazione di tecniche clown allo scopo di migliorare l'umore delle persone attraverso giochi, canti, balli, magie, colori, barzellette e così via. Ecco, noi spongiamo questa attività nelle corsie degli ospedali e nelle case di riposo per gli anziani. In questo momento anche noi siamo in casa, chiusi, in casa, come tutti quanti. Perché? Perché bisogna rimanere in casa. Questo per evitare di infettarci e di infettare gli altri, che è molto importante. Questo durerà ancora per qualche tempo, però come tutte le cose passerà anche questa. Certo che anch'io, stando in casa, mi annoio. E immagino anche voi. A questo punto ho chiesto aiuto allo zio Gigi, che mi ha insegnato alcuni giochi di magia, o zio Gigi è un pasticcione di quelli, però qualcosina l'ho imparata. Per esempio ho imparato il gioco del limone e la bottiglia. E questo ve lo faccio vedere. Ci vuole una bottiglia d'acqua, un limone, un piatto e e voilà. Aspetta, rifacciamo. Limone, piatto e voilà. Vi è piaciuto il gioco della bottiglia? Spero di sì. Adesso vi lascio in compagnia dello zio Gigi, pasticcione mega galattico, che però magari un sorrisetto ve lo strappa. E ricordate, bisogna stare in casa. Stiamo in casa, stiamo in casa, stiamo in casa. Stiamo in casa, disegniamo, leggiamo, cantiamo, facciamo baronda, buttiamo per l'aria tutta la casa così la mamma è contenta. E ricordatevi che il sorriso è un arcobaleno. Dopo la pioggia, ritorna il sereno. Oh! 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 Oh!